I carabinieri della stazione di campagna, nel corso di servizi anti-predatori disposti dal comando compagnia di Eboli, hanno sequestrato un furgone con all'interno diversi motori e parti meccaniche di autovetture di verosimile provenienza furtiva. Un trentenne marocchino è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione. Gli occupanti del furgone, alla vista della pattuglia dell'arma, hanno abbandonato il mezzo ancora acceso, dandosi alla fuga nelle campagne di località Mattinelle. Sempre nel corso degli stessi servizi è stato deferito in stato di libertà un richiedente asilo ospite di un centro di accoglienza di campagna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di Ashish e Marihuana, in quanto trovato in possesso di 11 dosi già pronte per la cessione a terzi.